eccoci qua ragazzi ben trovati ben trovati a casa rinaldi altro appuntamento con oggi con un'amica che abbiamo conosciuto musicalmente parlando ma che oggi ci stupisce perché eccolo qua che casino noi donne praticamente con noi c'è benedetta castelli ciao benedetta ciao e ci stupisce con questo che casino noi donne devo dire un libro che è una figata è una figata hashtag che figata questo non c'è no no non c'è dovevo inserirlo ecco questo è un hashtag che non hai inserito allora quando mi è arrivato questo libro devo dire carinissimo benedetta ho cominciato a leggere dico qui devo contare gli hashtag perché poi ogni parola particolare di questo libro c'è un hashtag che poi alla fine la morale è che casino questa vita che casino ragazzi benedetta castelli dunque una cantante che abbiamo lasciato qualche mese fa sempre con lo sfondo bellissimo di casa sua e oggi ritroviamo come stai bene bene dai grazie e voi benissimo stiamo tutti molto molto bene io sono stanchissima perché anche oggi ho cucinato quello che non dovrei fare ma comunque va bene perché così si fa giusto ecco allora come ti viene in mente di scrivere che casino noi donne con ellie bennett con lo pseudonimo di ellie bennett allora parto dallo pseudonimo lo pseudonimo di ellie bennett l'avevo già nel mio precedente libro perché questa è la mia seconda pubblicazione il libro precedente si intitolava questa vita non è la mia è completamente differente da questo romanzo e lo pseudonimo arriva da questa diciamo breve storiella per il quale lo zio di mio papà al posto che chiamarmi benedetta mi ha sempre chiamato bennett allora ho detto benedetta bennett castelli ellie mi suonava bene allora ellie bennett da qua è uscito questo pseudonimo che mi suonava bene quindi ho detto dai perché no perché adesso ti chiedo subito ma questo è un auto un libro autobiografico oppure di pura fantasia no allora ovviamente non è un'autobiografia però devo ammettere che c'è comunque moltissimo di me così come di tantissime persone che ho incontrato nel corso della mia vita ovviamente dal quale ho preso spunto per scrivere poi questa storia beh devo dire ragazzi che eh io mi ci trovo eh mi ci trovo parecchio in questo libro bene anche perché mi sento un po' la protagonista celeste e mi sento un po' anche perché le amiche che celeste ha che racconta bene o male una di quelle che tu hai raccontato ce l'abbiamo tutti quanti sì il marito il fidanzato di una di queste ce l'abbiamo e quindi quella che va a fare shopping e quella che invece se ne frega e quella che con tutte cure di bellezza invece è veramente un libro tragicomico da leggere assolutamente allora partiamo adesso noi siamo a fine novembre primi di dicembre questo libro parte proprio io adesso mi devo trattenere perché siccome mi è piaciuto me lo ricordo tutto non posso spoilerare perché diciamo che questo libro parte proprio da un fine anno sì esatto parte da un ultimo dell'anno deliberatamente citato da una situazione realmente accaduta ecco esatto sul quale è deciso di fondare un po' la situazione cardine dal quale puoi far partire la storia ecco quindi qualche cosa di autobiografico c'è in questo libro sì 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 come ho detto prima si è mandato quel paese qualcuno mentre scrivevi assolutamente è stato forse anche molto liberatoria come cosa perché mentre scrivevo mi venivano in mente tante persone dicevo adesso ti caccio dentro nel libro così almeno si sono riconosciute le persone che c'è cacciato dentro sì 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 allora tanti amici amiche persone comunque che sono descritte nel romanzo mi hanno detto mentre leggevo questa parte mi sono ritrovato in queste situazioni fa ma non è che per caso magari parlavi di me io giustamente ho detto non è che parlo di te perché comunque come ho detto prima è inventata la storia però ho preso spunto sì magari dal tuo personaggio da cose che sono accadute a te e quindi perché è praticamente questo che casino noi donne siamo noi donne nella nostra reale vita praticamente ci innamoriamo sempre della persona sbagliata non ci accorgiamo di quello che potrebbe essere la realtà di una persona che magari pende dalle nostre labbra e noi neanche la vediamo e praticamente come dice nella presentazione di questo libro in un mondo dove le persone dispensano consigli su come avere relazioni su come comportarsi con gli ipotetici partner dove il genere femminile maschile a un certo punto collidono ecco che si affaccia la protagonista di questo romanzo celeste fantastica che ha una testa brillantissima celeste in un mondo maschilista una donna intelligente si diciamo che non sta molto bene non viene particolarmente ben vista e purtroppo penso che sia un peccato perché alla fine io ho voluto anche sdrammatizzare come avrai letto cercando di rendere la cosa comunque abbastanza ironico comica però era un tema che per me era molto importante quello delle donne e la loro condizione perché credo davvero che per quanto sia il 2002 e 2022 e sia stato fatto comunque tantissimo per migliorare la condizione della donna in realtà ci siano ancora tantissime cose da sistemare perché effettivamente ci sono ancora donne che magari si presentano a colloqui di lavoro non vengono prese in considerazione perché magari non abbastanza belle o giovani per quella posizione lavorativa per dire oppure donne al quale viene chiesto ancora di scegliere tra la carriera e la famiglia insomma le donne che vengono ancora viste fondamentalmente come le massaie che devono stare in casa o come oggetto sessuale perché alla fine nonostante il 2022 ancora ci sono queste situazioni e quindi attraverso la comicità però volevo comunque lasciare un po un messaggio di fondo importante per far capire che essere donna non c'è niente di sbagliato ma anzi vuol dire essere speciale essere creative e fare comunque tante cose il mondo dovrebbe imparare a capire che insomma noi siamo così e dovrebbe un po accettarci forse anche di più sì verissimo e poi come racconti tu in questo libro celeste non si accontenta no lei no non proprio non ce la può fare e poi tutti questi social tutte queste app che le fanno scaricare per trovare un povero Cristo che in queste app si trovano soltanto degli sfigati immobili perché esatto è vero è troppo bello ragazzi questo libro ecco questo è il regalo di Natale giusto per questo 2022 se avete un'amica intelligente ma se avete anche un amico intelligente perché questo è un libro da regalare anche ai uomini ai ragazzi ai maschi perché uomo maschio e ragazzo sono la stessa cosa no potrebbe sembrare invece no secondo me come quelli che trovi sulle app di incontri ci sono le fecce ci sono gli sfigati e forse c'è anche qualcuno di interessante allora celeste non ama fare shopping tu ami fare shopping bene no no su questo su questo devo dire che mi rispecchia parecchio perché sono la classica persona che se deve andare a comprare qualcosa o so già cosa devo comprare entro compro esco o se no dopo un po diciamo che mi trovo a disagio sì 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 dopo un po sì allora adesso la presentazione di questo libro come come funzionerà come andrà avanti allora adesso ho fatto la presentazione ufficiale il 4 di novembre che è stato proprio il giorno di uscita ufficiale del romanzo è andata bene l'abbiamo fatta qua vicino al mio paese dove avevo già presentato il mio vecchio romanzo e c'erano un centinaio di persone quindi dai sono andate via un bel po di copie e adesso ovviamente faccio un sacco di propaganda a livello social perché ormai è quello che conta di più fondamentalmente per incentivare le persone a leggere la trama e vedere un po la copertina e poi se gli può interessare perché no comprarlo ve lo ricordo che casino noi donne ed è vero noi donne siamo un gran casino ma a volte per fortuna perché sdramatizziamo con il nostro modo di fare casino poi alla fine sdramatizziamo perché si alleggerisce quello che è un po la vita che pesano che a volte le dobbiamo portare sul gruppone e ci pesa ma praticamente ellie benet è benedetta castelli è nata a lecco nel 1992 quindi quest'anno fai 30 anni se li ho fatti a ottobre poco se sei amante dell'arte in tutte le tue forme le sue forme della natura dei viaggi degli animali ed è una vida lettrice ma anche scrittrice perché abbiamo visto noi poi anche una cantante non si fa mancare niente benedetta hai già presa pronta pronti degli iscritti per un terzo romanzo si allora sono già un po al lavoro su questo nuovo testo però insomma alla fine io porto questo esempio che ho fatto la presentazione appunto del mio libro impiegato sei anni per scrivere un secondo romanzo e questo perché non perché io non avessi le idee ma per via del tempo perché con tutte le cose che ogni giorno mi tiro in piedi da fare poi alla fine mi ritrovo a scrivere anche di notte e poi ogni tanto c'è il blocco dello scrittore poi magari un'idea sembra buona poi non è esattamente quella che uno voleva quindi torni indietro ti rimetti a riscrivere insomma anche il processo dello scrivere un libro non è semplicissimo e quindi una cosa ad esempio ti ritrovi che non hai carta e penna e soltanto il telefonino ti metti a dettare anche quello che ti si 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 assolutamente si anche perché magari capitano dei momenti nel quale uno non sta pensando a cosa scrivere però ti viene l'ispirazione vedendo una cosa o parlando con qualcuno e quindi io se non ho carta e penna appunto ovunque sul telefono ma anche su un foglietto di carta volante mi faccio prestare una penna un rossetto non lo so però c'è sono tutte cose che secondo me vanno fermate come degli attimi fermati perché poi su quali ci si può sempre lavorare a posteriori allora questo romanzo finisce in un determinato modo ci potrebbe essere il to be continued e non sei la prima che me lo chiede allora diciamo che ci ho pensato a un proseguo però in realtà non vorrei risultare magari troppo pedante fare un continuo che poi sia annoioso quindi devo pensarci perché questo questo romanzo se posso permettermi di dire un po sulla falsa riga di che disastro bridge johnson in pratica ecco tanto per farvi capire il genere di questo romanzo ellie bennett con che casino noi donne è un romanzo che lì è nato che casino bridge johnson e poi è andata avanti con tre e quattro adesso non ricordo perché ne hanno fatto un po e siccome c'è un finale in questo libro che dal mio punto di vista io posso anche però ho pensato lascia aperto ci sono diverse porte che sono rimaste aperte poi magari questa celeste può andare a comprare un rossetto perché potrebbe servire per appuntarsi sullo esatto sì sì no l'idea mi era venuta e comunque ripeto non sei la prima persona che me lo dice perché effettivamente il finale è aperto diciamo che io l'ho volutamente lasciato così perché le mie idee potevano essere o lasciare la libera immaginazione alle persone di decidere come poteva poi effettivamente terminare questa storia o lasciare comunque aperta la porta a un secondo romanzo però ripeto devo pensarci su perché poi tante volte i sequel non sono mai alla pari magari del primo e quindi è una cosa che devo valutare molto attentamente ma ti faccio una domanda perché gli uomini mollano celeste per varie motivazioni e una delle tante è che spesso e volentieri magari lei non è una persona di apparenza quindi per piacerti celeste la devi conoscere approfonditamente ci devi parlare per imparare a capire che c'è anche qualcosa di più oltre che l'aspetto fisico in primo luogo in secondo luogo perché magari lei non è una persona che riesce neanche troppo a farsi dentro con gli altri quindi ha bisogno anche di essere spronata dalle persone che ha davanti e anche perché spesso e volentieri magari lei è quella che avendo anche una buona intelligenza col pubblico maschile fa più fatica comunque a interagire perché spesso e volentieri gli uomini quando fai dei discorsi un po' ecco la cosa che io ho sentito è che questa celeste mi sembra che ogni tanto ha un po' la puzza sotto il naso sbaglio no no in realtà no cioè nel senso è quello che credono gli altri per come lei si pone no quindi magari il suo tipo di atteggiamento per come si presenta come si pone con gli altri però è soltanto una sua facciata tra virgolette non è quello che poi realmente perché è chi poi la conosce sotto sotto capisce che non è una persona sì che se la tira o cose di questo genere allora compratelo compratelo e regalatelo che casino noi donne Ellie Bennett ricordate questo libro che dovete assolutamente tenere sul comodino ma non tenercelo troppo non lì a prendere polvere ve lo dovete leggere perché vi ripeto e poi aiutatemi a contare gli hashtag perché li conterei adesso comincerò a sfogliarlo dopo averlo letto sai avevo cominciato a scrivere poi dopo o leggo o scrivo perché non posso puntare perché non sono una cosa che poi ti perdi adesso la prossima volta mi appunto gli hashtag e poi te lo dico quindi ragazzi regalo giusto di natale che casino noi donne di Ellie Bennett è un libro da regalare anche agli uomini intelligenti ve lo ricordo assolutamente perché questi maschietti devono capire chi siamo noi donne una volta per tutte ecco e forse 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 le cose potrebbero cambiare sono convinta che speriamo sì cara Benedetta assolutamente allora Benedetta io ti ringrazio davvero tanto di avermi fatto conoscere questo romanzo perché mi è piaciuto tantissimo mi hai regalato una bella gioia sono molto contenta ti auguro di vendere milioni di copie che questa cosa vada bene speriamo sì dobbiamo pensare in grande perché poi ridimensionarci abbiamo sempre tempo è vero è vero è vero anche questo è come fa la nostra celeste la protagonista del libro che lei bene o male non non si arrende non si arrende avanti e scoprirete poi che cosa succede a questa celeste esatto molto 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 punto grazie mille a te grazie bocca al lupo ciao grazie mille ciao